Quello sullo stretto di Messina sarà il ponte sospeso più grande al mondo, un'infrastruttura tanto di battuta quanto incredibile dal punto di vista ingegneristico. Abbiamo ricostruito in 3D l'intero ponte sullo stretto di Messina, usando i progetti originali. E l'abbiamo fatto per farvi capire essenzialmente due cose. Uno, che tipo di ponte sarà, quindi quali sono gli elementi strutturali principali. E due, nel momento in cui si avrà l'approvazione del progetto esecutivo ancora in corso, quali saranno cronologicamente le fasi di lavoro. Quindi quello che vorrei proporvi oggi è di cominciare a capire come sarà il ponte dal punto di vista tecnico-scientifico. Cercheremo di avere un approccio quanto più neutrale e analitico possibile. Diciamo che il concetto è, vediamo di cosa si tratta nel concreto, lasciando un attimo da parte la sfera politica ed economica. Partiamo col capire che cos'è un ponte sospeso e andiamo a farlo analizzando le parti che comporranno appunto il ponte sullo stretto di Messina. Le parti essenziali sono quattro. Le torri con le fondazioni, in architettura e ingegneria il termine corretto è fondazioni, non fondamenta. Il sistema di sospensione, l'impalcato e i blocchi d'ancoraggio. Si tratta della stessa forma strutturale di cui si compone il ponte di Braila, appena inaugurato in Romania che può essere considerato una sorta di gemello su scala ridotta del ponte dello stretto di Messina. Vediamo le funzioni di ognuna di queste parti. Le torri. Le torri hanno il compito di sostenere tutto il peso. Sono composte da due gambe alte ben, pensate, 399 metri, quindi come l'Empire State Building per intenderci, connesse da tre grandi travi a forma di clessidra chiamate in gergo traversi. Le gambe delle torri poggiano su delle fondazioni in calcestruzzo a forma di tronco di cono e sono alte 33 metri. Passiamo al sistema di sospensione, che comprende i cavi che collegano le torri alle sponde e i pendini che reggono la strada. È composta da quattro cavi totali, organizzati in due coppie, una per ogni lato del ponte. Il singolo cavo ha un diametro di 1,26 metri ed è composto da 349 funi, ciascuna a sua volta formata da 127 fili di diametro di 5,40 mm. Di conseguenza ciascun cavo è composto da ben 44.323 fili d'acciaio totali. L'impalcato, cioè la porzione sospesa, sarà collegato ai cavi attraverso pendini collocati ogni 30 metri. Passiamo così all'impalcato, cioè alla strada. Abbiamo detto inizialmente che sarà il ponte sospeso più lungo del mondo, ma cosa vuol dire effettivamente sospeso? Beh, in maniera pop vuol dire che sotto la strada non c'è niente, cioè non ci sono piloni, non ci sono pilastri che sorreggono appunto l'impalcato. Perché tutta la struttura che mantiene l'impalcato sta su, hai capito? Sull'impalcato ci saranno due carreggiate autostradali, ognuna larga 14,2 metri, a due corsie più una di emergenza, e al centro ci saranno due binari per la circolazione ferroviaria. Tra le due torri, che sono ovviamente una in Calabria e una in Sicilia, però dico questo perché le fondazioni sono proprio a terra, non sono a mare, c'è uno spazio, chiamato luce, che in questo ponte è di ben 3.300 metri. Attualmente il record di luce libera più lunga è di 2.023 metri, e appartiene al Giannakal Bridge che attraversa lo stretto dei Dardanelli, in Turchia, e che è stato aperto al traffico nel 2022. Come vedete in questo grafico dell'evoluzione dei ponti sospesi dal 1800 ad oggi, il ponte sullo stretto sarà un primato assoluto dal punto di vista ingegneristico, e a tal proposito vorrei fare una breve parentesi. Ci sarebbero sicuramente diversi aspetti tecnici di cui parlare in maniera dettagliata, come per esempio l'innovativo sistema di impalcato aerodinamico, molto più stabile al vento rispetto a quelli dei ponti realizzati in passato. Infatti secondo gli studi svolti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, questo ponte potrebbe reggere a venti fino a 270 km orari. Altro aspetto che merita sicuramente un approfondimento dedicato è quello relativo ai terremoti, perché le soluzioni ingegneristiche di questo ponte, secondo i progettisti, sono tecnicamente in grado di assorbire le sollecitazioni di un sisma di magnitudo 7.1. Perché 7.1? Beh, se siete d'accordo facciamo un video ad hoc sulla questione vento e sulla questione terremoti, per cui fatemi sapere con un commento se l'idea vi piace e magari facciamo dei video dedicati. Chiusa questa parentesi c'è ancora un elemento di cui parlare, Il quarto, fondamentale, i blocchi di ancoraggio, dove verranno fissati i cavi di sospensione. Questi blocchi hanno la funzione di contrastare il tiro dei cavi principali. Insomma, senza questi il ponte non potrebbe reggersi in piedi. Ora che abbiamo gli elementi principali del ponte nella nostra mente, cerchiamo di capire come questi elementi saranno installati. Cominciamo col dire che, in base al cronoprogramma dei lavori attuali, i tempi di costruzione sono di sei anni circa, compresi anche la costruzione di tutte le strutture secondarie, come viadotti, svincoli e gallerie. Stando al progetto, le torri del ponte di Messina verrebbero posizionate su terra tra Ganzirri, in provincia di Messina, e Puntapezzo, provincia di Reggio Calabria, proprio nel tratto più stretto di separazione tra la Sicilia e la penisola. Ed è qui che inizia la prima fase, la costruzione dei blocchi di ancoraggio del cavo e delle fondazioni in calcestruzzo dove poggeranno le torri. Dopo le fondazioni si devono ovviamente tirar su le torri. Le gambe delle torri sono composte da 44 conci prefabbricati, alti 20 metri e del peso di 1200 tonnellate. Completate le torri, sarà il momento di montare il sistema di sospensione. Per primi vengono fatti passare i quattro cavi principali di cui abbiamo parlato prima. Le 349 funi che compongono ogni singolo cavo, vengono fatte passare uno alla volta da lato a lato, ancorandole poi ai blocchi, fino a formare il cavo completo. Per evitare l'ossidazione del metallo, oltre ad un sistema speciale di deumidificazione, i cavi vengono avvolti da un ulteriore filo metallico e da una speciale guaina isolante. Sui cavi principali verranno montati poi a coppia i collari per agganciare i pendini all'impalcato. Infine, per ultimo, verrà montato l'impalcato. I pezzi prefabbricati dell'impalcato, delle dimensioni di 60x60x4 metri e del peso di 1000 tonnellate, verranno trasportati a coppie con una chiatta sotto il ponte. Un'altra gru costruita ad hoc tirerà sulla sezione di impalcato fino alla quota stabilita e l'impalcato verrà ancorato ai pendini. Questo processo avverrà partendo dal centro della campata principale, procedendo verso le sponde. A quel punto il ponte sarà completato. Detto ciò, un altro aspetto di cui si parla sempre troppo poco è che il progetto definitivo, il progetto del ponte sullo stretto, comprende, oltre al ponte stesso, anche una serie di altre opere nelle aree circostanti, tra cui tre nuovi svincoli autostradali a Messina, un passante ferroviario con tre stazioni metro, sempre a Messina. A questi si aggiungono opere di valorizzazione del territorio, come il nuovo waterfront con centro direzionale in Calabria, interventi di sistemazione idraulica delle fiumare in Calabria, oltre a 11 chilometri di coste che verranno risistemate con ripascimenti per la tutela delle spiagge e la riqualificazione ambientale di laghi ed ex cave dismesse. Detto ciò, quello che vi abbiamo appena raccontato, ovviamente è una sintesi delle fasi lavorative. Ovviamente è tutto molto più complesso di così, ma pensiamo che questa sia una buona base di partenza per avere un'idea chiara. Io vorrei ringraziare WeBuild, nostro partner, per questo video e ringrazio ovviamente tutti voi per averci seguito fino alla fine. Vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!